Partirà mercoledì mattina presso la Corte d'Appello di Lecce il giro di interrogatori degli 11 arrestati nell'ambito dell'operazione Family Affairs che nella notte di lunedì aveva permesso ai carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana di smantellare una presunta associazione dedita allo spaccio di droga. I primi a sfilare l'avanti del giudice per le indagini preliminari Giulia Proto che su richiesta della DDA aveva emesso le ordinanze di custodia saranno i sette indagati restretti ai domiciliari. Solo dopo sarà la volta dei quattro arrestati in carcere ovvero i presunti promotori dell'organizzazione. Si tratta di Giuliano e Damiano Parisi, Gabriele Balestra e Giuseppe Candita, tutti di Francavilla difesi dai legali di Firucia, Luigi Galiano, Tommaso Resta e Domenico Attanasi. Al centro delle indagini gli affari di famiglia gestiti su Francavilla Fontana ovvero spaccio di cocaina marijuana e hashish, un traffico aggravato secondo l'accusa dall'utilizzo di armi da fuoco utilizzate a mo' di minaccia per convincere i debitori a saldare i conti in sospeso. L'operazione dei militari al comando del capitano Gianluca Cipolletta ha raccolto il plauso della locale associazione antiracket. La brillante operazione, spiega il presidente Cosimo Torino, mette un freno alle attività illecite di un gruppo criminale locale con collegamenti con la criminalità organizzata. Il direttivo FAI esprime le più vive congratulazioni al capitano Cipolletta e ai suoi uomini e all'arma dei carabinieri. Resta valido l'appello dell'associazione rivolto a cittadini e commercianti, denunciate qualsiasi tentativo di estorsione ed usura.